La nota omonima figlia Romina Carrisi, fa scorta di comfort in una location fuori dal mondo per una natia al caldo sole del sud. Romina Junior Carrisi è la quarta figlia avuta dalla ex coppia che faceva innamorare il mondo intero albano e Romina Power. Una bella ragazza che, nei tratti somatici, ricorda molto una somiglianza con la nonna materna Linda Christian. In famiglia è conosciuta anche con il nome di Ugo Affibbiatole per via del suo fare mascolino in tenera età. La giovane Carrisi ha intrapreso la vena artistica ed è un'appassionata della pittura e della fotografia in generale, arte che condivide con la famosa mamma. Molto tempo fa partecipò ad un'edizione dell'Isola dei Famosi Incombe. La giovane Carrisi è la quarta figlia di un'edizione dell'Isola dei Famosi Incombe. nel suo nito al centro di Roma. Romina è molto peperina e ama parlare per sotterfugi. Durante la quarantena ha stabilito un contatto diretto con i suoi follower concedendo loro di fare qualsiasi domanda. La domanda clou è stata quella riferita al suo parere personale contro l'Alecciso. La risposta è stata ovviata con un, mi manca l'accellino degli anni 90, chiaro intendimento che la sua famiglia resterà quella formata dai suoi genitori biologici nella tenuta di famiglia in Puglia. Romina ora si trova a trascorrere un meritato restyling a Cortina d'Ampezzo dopo l'isolamento vissuto. Dal suo Instagram appunta un paio di scatti che la vede imbacuccata in un enorme giubbottone termico con tanto di cappello per riparare il suo corpo dalle temperature basse del luogo incantevole dove si trova. In primo piano, restano i suoi splendidi occhi verdi ereditti.